Stefano, una vittoria, quella di Fernando Alonso a Barcellona, preziosa, importante, ma soprattutto meritata? Sì, devo dire meritata per la squadra, perché sicuramente partire quinti e noni non era facile, però devo dire la cosa importante è che ho visto una squadra concentrata, motivata, confidente del potenziale che avevamo e credo che la chiave di lettura sia stato il fatto di partire da subito convinti che la strategia che dovevamo fare era quella che poi avevamo fatto. Sapevamo che il traffico era il tema della gara, dovevamo essere aggressivi per superare le macchine subito e quindi impeccabile sia Fernando che Felipe, le chiamate della squadra, i pit stop, quindi oggi è una bellissima giornata, ma è chiaro che, lo dico sempre, abbiamo vinto solo due gare su cinque e noi se vogliamo ambire all'obiettivo che abbiamo chiaro in testa non ci dobbiamo fermare, quindi godiamo questa giornata insieme ai nostri tifosi, ma da domani bisogna riprendere perché Monte Carlo sarà una pista totalmente diversa, dove vedremo i valori in campo, dove il fatto di partire da dietro è chiaro che non aiuterà anche se vai più forte, quindi tante cose da studiare bene. La gestione delle gomme, il degrado delle gomme è un tema centrale di quest'anno, sembra però che la Ferrari effettivamente riesca a trattare meglio le gomme di qualsiasi mescola meglio di avversari come Red Bull, Mercedes, anche meglio della Lotus. Ma è chiaro che sappiamo che questo è probabilmente il tema più importante in ottica di gara e abbiamo lavorato e stiamo lavorando tanto, è chiaro che le condizioni cambiano perché dipende dalle temperature, dagli asfalti e l'importante è sia sulla simulazione avere delle certezze su costruire le basi per le strategie e mi fa piacere al termine di questo weekend aver verificato che insomma quello che ci aspettavamo di vedere è avvenuto, quindi questo è un fatto importante che dà solidità alle scelte che dobbiamo fare per il futuro. Insomma è chiaro che il progetto di quest'anno, l'idea iniziale è buona, adesso ci sarà però la lotta nello sviluppo. Qui avete portato tante parti, qualcuna è andata bene, qualcun'altra no, che cosa si può fare perché sarà importantissimo ovviamente essere veloci e rapidi anche nello sviluppo? Prima di tutto bisogna cercare di fare in modo di fare le scelte giuste senza entrare in un'ansia di prestazione che ti può far perdere la strada, questo è il primo fattore fondamentale. Il secondo non dobbiamo dimenticare il bilanciamento tra sviluppo e gestione dei pneumatici perché questo è l'altro tema cruciale e poi terzo credo che sarà fondamentale mantenere lo sviluppo il più lungo possibile perché io mi aspetto nella seconda parte della stagione che molte squadre dovranno dedicarsi sul progetto della macchina nuova visto che sarà un progetto totalmente diverso e se non parti presto rimani troppo indietro. Un risultato complessivo buono per la Ferrari perché anche Felipe che partiva nonno è arrivato sul podio, terzo, importante anche per il campionato costruttori e per il morale di Felipe. Assolutamente sì, Felipe ha fatto una gara solida ma anche ieri in qualifica è stato molto bravo, gara solida è il Felipe che vogliamo e sono punti importanti in ottica costruttori quindi è bene così. Come festeggerete adesso? Qualcosina farete? No, no, festeggiate, ma c'è poco da festeggiare, c'è da stare calmi e essere felici, questo ti dà autostima però va gestito perché poi noi latini siamo bravi, siamo dei fenomeni quando vinciamo siamo dei, non posso dire che cosa, quando le cose non vanno bene quindi l'importante è stare sempre sul pezzo, stare tranquilli, godersi questi momenti che ti danno carica ma ripeto il prossimo weekend sarà tutto un altro film. Ecco l'ultima parola su Monte Carlo dove effettivamente la pole position conta ancora moltissimo. Ecco per questo che dobbiamo cercare di fare il massimo per fare in modo che la macchina possa dare il meglio in condizione di giro singolo, non sarà facile ma insomma l'obiettivo è chiaro. Allora complimenti. Grazie. Grazie. Grazie.